Ogni comune ha scelto di utilizzare in modo diverso i fondi stanziati dal progetto e da una parte all'altra della provincia, dal Cilento alla costiera amalfitana, ogni primo cittadino ha le sue idee. A San Giovanni e a Piro i soldi del progetto Spiagge Sucure verranno per esempio investiti per utilizzare i droni nei controlli delle spiagge. Per acquistare delle infrastrutture come delle macchine o comunque dei controlli tramite il drone per le spiagge, per assicurare il distanziamento sulle spiagge. Abbiamo l'area marina protetta che è una costa non antropizzata, una costa che si può raggiungere solo via mare, quindi abbiamo messo del personale di sorveglianza e dei bagnini affinché i turisti possano godere di spiagge bellissime anche perché l'Arc Park c'ha. A Vietrisulmare, uno dei comuni dove il controllo sulle spiagge libere ha generato il maggior tipo di polemiche e problemi, con la decisione in un primo momento del sindaco di chiedere anche il versamento di un euro, i fondi stanziati dal protocollo d'intesa serviranno a installare delle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo mirato sulle istruzioni di telecamere, metteremo delle telecamere lungo tutta la costa e questo garantirà soprattutto un controllo di quelle che sono il litorale ma anche le spiagge libere. Come sai noi abbiamo dovuto chiudere un periodo le spiagge, poi abbiamo riaperto, le stiamo contingentando con le entrate, però effettivamente c'è bisogno di controllo. Un controllo che poi avendo le telecamere abbiamo pensato che serviranno anche negli altri anni, sperando che questo Covid finalmente possa essere un brutto ricordo. Nella vicina Minori, in Costiera Amalfitana, invece il sindaco Andrea Reale ha investito i fondi per assumere delle persone utili al controllo sulle spiagge. Ha fatto 24 borse lavoro per cittadini, giovani, meno giovani, che sorvegliano, disinfettano, guardano la distanza, il distanziamento delle persone, sanificano la spiaggia, sta andando molto bene. Non solo personale, invece ad Agropoli, dove la sindaco utilizzerà i fondi non solo per assumere altri tre vigili ma anche per acquistare uno speciale mezzo. Abbiamo un'automobile nuova, in particolare il servizio sarà un servizio proprio dedicato alle spiagge, sia come prevede appunto il progetto per controllare e combattere il commercio abusivo, ma anche in questa fase li utilizziamo anche per controllare il distanziamento e la sicurezza sulle spiagge stesse. Noi abbiamo già sulle spiagge un servizio di controllo che abbiamo organizzato con il servizio civile, con la collaborazione dei vigili urbani e quindi abbiamo agli accessi su ogni spiagge coloro che controllano l'arrivo delle persone e fanno un monitoraggio sul numero delle persone che arrivano sulle spiagge in modo tale che se quel tratto di arenile, quel tratto di spiagge dovesse essere eccessivamente affollato, temporaneamente può essere anche chiuso.